Evento moda al Teatro dei Pioscuri al Quirinale in via Piacenza 1, Roma. The World de Tamp Couture, una spilata che rende omaggio ai paesi del mondo. Creatrice di questo nuovo brand, Nathalie Altomonte, curatore ed ufficio stampa dell'evento, Edoardo Allaimo, Luxedo Communication. Quello che vogliamo esprimere è che tutta la passione di questa donna straordinaria, sia a livello professionale che umano, è riuscita a comunicare attraverso la pubblica. Grazie a tutti. 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 a unirci attraverso la moda. Forse avremmo fatto un gran bel lavoro. ringrazio tutto, ringrazio anche la pasticceria Vilmaelio che arriva da Torino questa mattina in treno per deliziarvi poi. Grazie, grazie, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.